Danneggiata l'auto del sindaco, atto vandalico o atto mirato? Se lo domanda Linda Colombo, primo cittadino di Bareggio, che nel fine settimana si è ritrovata di fronte a questa certo non gradita sorpresa. Nei giorni scorsi, infatti, i gnoti hanno danneggiato l'auto del sindaco Linda Colombo, parcheggiata sotto casa sua. Come vedete dall'immagine, si è ritrovata con un graffio sul portellone e la targa della vettura imbrattata con della vernice rossa. Atto vandalico o atto mirato? Si domanda l'amministrazione comunale di Bareggio. L'episodio è stato quindi denunciato ai carabinieri della stazione di Bareggio che hanno avviato le indagini. Sono gesti che si qualificano da soli e che fortunatamente non rappresentano la comunità di Bareggio, ha commentato il primo cittadino Linda Colombo. Invito chi ha qualcosa da dirmi, anziché parlare in questa maniera stupida e volgare, a contattarmi attraverso i canali istituzionali. Non mi sono mai tirata indietro e ho sempre risposto senza problemi a tutti, anche a chi ha avuto delle critiche e delle lamentele da fare. Detto ciò, continueremo a lavorare con entusiasmo e determinazione, come abbiamo fatto finora.